All'ultimatum senza tempo di Conte di ieri risponde quello a tempo di Salvini, 15 giorni per fare, altrimenti c'è un problema alla minaccia del ministro dell'interno. E di nodi da sciogliere ce ne sono parecchi, a cominciare dallo sblocca cantieri che rompe subito la tregua chiesta dal Premier. Al Senato, per mancanza di un accordo nella maggioranza, l'approdo in aula slitta domani, mentre Salvini incalza a voglio le stesse regole che ci sono in Europa. In questo caso, il leader del Carroccio invoca le regole dell'Unione, quelle stesse che invece è pronto a trasgredire quando si parla di conti pubblici. Domani, infatti, Bruxelles replicherà alla lettera italiana dichiarimenti sull'extra deficit denunciato dai commissari europei, al di fuori degli accordi stretti. Potrebbe dunque iniziare l'iter per la procedura di infrazione da parte dell'Unione e su questo Salvini sarebbe pronto allo scontro, a differenza di Conte e Tria. Che se il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio stanno interloquendo con le istituzioni europee, le due forze politiche non intervengono ad alterare questa delicata interlocuzione. Per le opposizioni il Governo è giunto al capolinea e chiedono che il Premier venga a riferire in Parlamento, mentre già si fanno ipotesi sulle date di un possibile voto anticipato il 29 settembre oppure la prossima primavera.